È stato presentato ieri sera alla popolazione il progetto di nuovo arredo urbano della piazza di Varone, frutto di un processo di progettazione partecipato e durato alcuni anni. Punto centrale della proposta, la rinascita della piazza come luogo collettivo o pubblico. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di arrivare entro la fine dell'anno all'appalto dei lavori. La piazza antistante la chiesa e la fascia nord sono il cuore della frazione, per cui la scelta dell'amministrazione è stata di delimitare alcuni spazi per dedicarli alla socialità e alla relazione, allo stesso tempo tenendo presenti gli aspetti pratici e funzionali per il mantenimento delle attività commerciali. Il transito delle auto avverrà con il senso unico di circolazione, in entrata da via Chiesa Vecchia e in uscita in via Cartiere, e reso meno impattante e più sicuro con un arredo urbano tipicamente da centro storico e con un percorso delimitato. La strada privata che porta all'area Bonora resta a doppio senso di marcia. L'accesso carraio all'oratorio, eliminato l'attuale collegamento che passa sul lato nord, viene ripristinato realizzando una nuova stradina sul lato est della chiesa e accesso da via Sega. Saranno eliminati gli otto parcheggi sul lato nord della chiesa e sostituiti dal vicino parcheggio preventivamente realizzato, di più ampie dimensioni e in prossimità della piazza su via Cartiere, e dal nuovo parcheggio ai Verbiti, a pochi minuti di cammino. Restano disponibili e invariati i parcheggi prospicenti le attività commerciali del supermercato. La pavimentazione sarà realizzata utilizzando quattro diverse tipologie, per segnalare in modo differente le diverse funzionalità dello spazio, utilizzando materiali di pregio tipici della zona, come porfido e pietra bianca. Presentato oggi il progetto per la nuova piazza di Varone, di cosa si tratta Assessore? Oggi presentiamo in frazione una proposta, un progetto definitivo che però non è ancora approvato, per quanto riguarda l'arredo urbano della piazza di Varone. È un progetto che ha avuto un'evoluzione molto lunga, perché ha avuto anche molte fasi partecipative. Abbiamo rispolverato una vecchia idea che faceva parte di quella degli anni 90 e le abbiamo riprese noi nella campagna internazionale del 2010. Lì poi nel 2011 a maggio avevamo affrontato un'assemblea qui in frazione per ragionare insieme sull'iter da dare a quest'opera, perché non è solamente un arredo urbano che noi intendiamo realizzare, ma è anche un nuovo modo, un modo diverso di accedere alla piazza cercando di dare più spazio all'aggregazione, alla vivibilità e al concetto dell'arredo urbano nel senso di un arredo urbano che crea anche socializzazione. Quindi da lì siamo partiti con le indicazioni immerse nell'assemblea nel creare un'ampia rete di parcheggi all'esterno della piazza creando alcune aree già da adesso di messa in sicurezza per i pedoni. Abbiamo già creato questa zona di limitazione a 30 all'ora su tutte le strade che accedono alla piazza e abbiamo chiuso fin da subito l'accesso a nord da Via della Sega proprio per questo fine per creare una piazza che non sia una rotatoria, come allora si diceva. Oggi siamo qui dopo una serie di incontri che si sono seguiti nel tempo per riportare una proposta alla popolazione e capire dalla popolazione se questa proposta è condivisa in tutti i suoi ambiti. È chiaro che oggi qui non siamo al momento di partenza dell'anno zero non siamo nel se o nel come, qui siamo già oltre il se e anche oltre il come realizzare qui siamo adesso ai dettagli di minima per capire se questo progetto così come strutturato di arredo urbano è gradito.